Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Allora, con il video di oggi voglio andare a dare una speranza a quelle persone che sono in una situazione difficile, in un momento di vita particolare e che si chiedono, uscirò mai da questa situazione? Quindi andremo a vedere quando si inizierà a intravedere un po' di luce all'interno di questa situazione un po' difficoltosa. Scelta numero 1 e scelta numero 2. Ci vediamo nella vostra lettura. E benvenuti alle persone che hanno scelto il mazzo rosso e blu. Vi ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare proprio nulla potete sempre ascoltare l'altra lettura. Per chi volesse contattarmi può scrivermi invece un'e-mail a questo indrizzo qui. Bene, andiamo a vedere. abbiamo la carta della forza, il 9 di pentacoli e il 3 di spade, ragazzi. il 7 di pentacoli. Qui si tratta di fare un salto di fede, come dice appunto la carta del matto. È come se fosse in un momento di forte attesa, di forte stasi, perché fondamentalmente avendo anche la carta dell'appeso è un po' come se non poteste muoversi. Qualcuno probabilmente in un periodo di attesa forzata. E ragazzi, ho come la sensazione che per fare questo tipo di movimento si deve passare da questo 3 di spade. Datemi una carta per il 3 di spade. Potrebbe essere una questione di amor proprio, potrebbe anche essere una questione di relazione. Allora, ho come la sensazione che qui ci sia una questione legata, perché guardate, sia il nome di pentacoli che la carta degli amanti sono due carte di amor proprio. Quindi è un po' come se qualcuno a un certo punto alzasse la testa e dicesse no. Io valgo questo e le cose per me funzionano in questo modo. Come se ci dovesse essere una sorta di presa di coscienza. In un certo senso ho anche la sensazione che abbiate bisogno di trasmutare ancora del dolore con questo 3 di spade. 3 di spade è una ferita ancora aperta, una ferita che crea ancora pianto, che crea ancora tristezza e può essere appunto o inerente a una relazione o inerente alla relazione che voi avete con voi stessi, quindi il vostro amor proprio. Perché è un po' come se appunto nel prossimo periodo iniziasse ad alzare un pochettino la testa e dire ok, adesso basta. È vero che non avete molta possibilità di azione a livello pratico, però sì che a livello emotivo potete iniziare ad avere fiducia sia in voi stessi, nella vostra forza interna, ma sia anche in quello che è l'universo, il disegno divino. Andiamo a vedere ancora due carte. Abbiamo il re di denari e la luna. Allora ragazzi guardate, a livello pratico o anche economico, avendo queste due carte e anche comunque il set di denari, diciamo che è solo una questione di tempo per sentirvi stabili, o magari qualcuno già ci si sente stabile. Il punto qual è? La luna. Sono certe paure che probabilmente voi avete o certe cose e certi timori che potrebbero anche venire a galla dal passato che secondo me tendono a bloccarvi un po'. Però guardate che avete comunque la carta della forza, quindi c'è questa forza di volontà, questo alzare la testa, questo riuscire a controllare gli istinti e quindi diciamo così a... se volete anche ragionare un po', perché l'istinto è sempre quello che ci fa fare le cose un po' impulsivamente, no? è una cosa vi devo dire piuttosto lentina, questo tipo di movimento energetico che comunque va verso un maggior amore proprio, una maggiore indipendenza, una maggiore stabilità. Guardate, per qualcuno il re di pentacoli potrebbe anche rappresentare una persona che magari vi dà una mano, che vi aiuta, sia da un punto di vista del tempo che del denaro, che magari è un aiuto di tipo pratico, o potrebbe anche essere una di quelle persone tipo avvocato, anche un nutrizionista. Non so per quanti possa essere, possa risuonare la parola nutrizionista, però io l'ho sentita ve la dico. Ok, andiamo a vedere ancora una carta delle fatine, per darvi ancora qualche dritta in più. Autenticità, e qui fa vedere una fatina che si toglie la maschera, ed è proprio un po' quello che avete l'occasione di fare con l'appeso, perché l'appeso è quella carta che vi fa vedere le cose da un altro punto di vista, ed è un po' come essere più autentici nei confronti di voi stessi. Vi ricordo che comunque c'è la luna, che è una carta di proiezione, è una carta che vi fa presente che in questo momento state vedendo una realtà distorta. Probabilmente non avete tutte le informazioni necessarie per avere un quadro chiaro, e quindi fate attenzione anche perché molte volte si tende a, diciamo, costruirsi castellinarie, ok? Giusto per farvi capire. Ok, un'ultima carta, una meditazione di Findorn, vediamo un messaggio dell'universo. Questi sono tanti, uno solo per piacere. L'amore comincia dentro ad ogni singolo individuo, guardate vi metto questo che è amor proprio, dentro ad ognuno di voi e cresce come un seme per poi erompere all'improvviso, rivelando grande bellezza e completezza. Ecco ciò che sta accadendo. Sii ne è cosciente in ogni istante e non permettere che qualcosa dentro di te opponga resistenza. Non scordare mai di rendere grazie per essere usato in questo modo. Lasciati andare, rilassati e permettimi di servirmi di te, ora. Wow, ma che bella! Cari amici della prima scelta, io spero che la lettura vi sia stata utile. Vi dico, la cosa è un po' lenta, è un cambiamento che succederà nei prossimi 4-5 mesi, ok? Vi dico che è più un lavoro interno, deve prima iniziare da dentro per iniziare a vedersi il cambiamento, diciamo, nella vita materiale. Io spero che la lettura vi sia piaciuta, fatemelo sapere con un like, con un commento, con la vostra iscrizione, con una condivisione, ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenuti alle persone che hanno scelto il mazzo azzurro. Anche per voi andiamo a vedere questa situazione come evolverà e quando ne uscirete, insomma. Anche per voi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, ragazzi, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi cercate di adattare quello che potete alla vostra realtà e il resto lo lasciate andare. Se non dovesse risuonare nulla, potete sempre ascoltare l'altra lettura e se voleste contattarmi, potete scrivermi un'email all'indrizzo che vedete qui. Bene, andiamo a vedere. Re di pentacoli, regina di bastoni e dieci di spade. Imperatrice, sei di pentacoli, quattro di bastoni, il diavolo e la forza. Wow! Allora, ragazzi, devo dire che qui è come se si avvicinasse la chiusura di un ciclo con questo dieci di spade. Guardate, ragazzi, ho come la sensazione che ci sia qualche cosa a livello economico, perché si parte da un re di pentacoli fondamentalmente. Scusate, mi è caduta una carta. Perché si parte dal re di pentacoli fondamentalmente, quindi è come se si parlasse di una situazione di una certa stabilità, di una certa ricchezza, di un certo anche ruolo magari per qualcuno, no? Ed è come se ci fosse una sorta di cambio di ruolo o quello che cambia il vostro modo di porvi all'interno di questo ruolo. È un po' come se foste meno… o come la sensazione che dobbiate diventare più materni, più amorevoli, più empatici, più compassionevoli. Perché effettivamente voi è un po' come se foste questo re di pentacoli e avete bisogno di diventare questa regina di bastoni o quest'imperatrice, ipotesi, no? Allora, per qualcuno come la sensazione è che si tratti di un posto di lavoro dove ci sono ancora delle differenze tra uomini e donne. E qui si tratta di riprendere il proprio potere personale. Con il diavolo, ragazzi, si parla di metterci anche un po' di furbizia, eh? Forza di volontà, coraggio, determinazione. E comunque c'è un quattro di bastoni che parla di stabilità, parla di nuovi contratti. È comunque una carta di festeggiamenti, ok? Quello che vi posso dire è che c'è, come appunto vi dicevo, una questione legata a livello economico da riequilibrare. È un po' quello, secondo me. Il fatto di prendere in mano probabilmente quel tipo di potere personale vostro, o magari potrebbe essere, che ne so, imparare a gestire o iniziare per qualcuno a gestire magari quelli che sono i temi economici che fino adesso ha gestito qualcun altro. Comunque, ragazzi, la vedo positiva. Io sento che non è una cosa come vi posso dire, che si muove piano piano. È un prima e un dopo. Diciamo che vi posso dire che tra i due e i tre mesi, quattro al massimo, potrebbe esserci questo cambio, questo contratto, questo accordo, questa stabilità, questo nuovo equilibrio che vi confesso non è semplice da trovare, ma non è neanche impossibile da trovare, ok? Anzi, ci vuole forza di volontà, ci vuole coraggio, un po' di astuzia. Tenete presente che quando c'è il diavolo, il diavolo parla sempre di potere mentale, ok? Quindi qui si tratta di riprendere in mano il potere della vostra mente. Sapete che la mente crea. Quello che noi pensiamo è come se fosse una sorta di messaggio che mandiamo all'universo. E più messaggi mandiamo dello stesso tipo, più questo pensiero diventa denso fino a quando diventa poi materia, fino a quando poi questo pensiero si concretizza. Ed è un po' quello. Riprendete in mano il vostro potere della mente, iniziate anche a fare esercizi di manifestazione. Perché qui siete alla fine di un ciclo, ok? Bene, andiamo a vedere una carta da parte delle fatine. Wow, tolleranza. Fa vedere due fatine che brindano. E guardate, anche qui ci sono due persone che festeggiano. Sì, probabilmente dovete appunto usare un po' di più le vostre doti ammaliatrici ed essere un po' più compassionevoli e tolleranti e empatici nei confronti degli altri. Anche perché vi dà modo di capire meglio il loro punto di vista e quindi capire come comportarvi di conseguenza. Andiamo a vedere una meditazione di Fyndorn. Comunque ragazzi appunto vi dico tra i due mesi e mezzo e tre mesi e mezzo da quando ascoltate la lettura dovrebbero iniziare a vedersi nettamente vi direi questo cambio. Il modo in cui cominci la giornata è così importante. Fai che nel tuo cuore ci sia un canto di lode e di gratitudine e la consapevolezza del mio amore e della mia abbondanza senza limiti. Sapendo che c'è un tempo per ogni cosa che deve essere compiuta e che dipende da te come impiegare questo tempo. lascia che sia io a guidarti per tutto il giorno rimetti ogni cosa nelle mie mani te stesso il tuo lavoro le tue vicende i tuoi interessi le tue attività e lascia che io lavori attraverso di te. Bellissima carta. Cari amici della seconda scelta spero che la lettura vi sia stata utile che insomma vi abbia dato un po' di speranza. Fatemelo sapere con un like con un commento con una condivisione con un'iscrizione ogni tipo di supporto sapete che per me è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.